buongiorno dal gelo siamo a fine aprile ma guarda la gaucia dal naso perché perché fa freddo siamo ad aprire con il nostro primo grande viaggio di gruppo e siamo ai castelli della loira e siamo immersi nella campagna francese non mi chiederei il posto te lo metto qui sotto paide troncè dovrebbe essere in un campeggio molto 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 carino campeggio con piazzole enormi infatti molto buongiorno molti molti nostri compagni di avventura si sono messi insieme in due nella stessa piazzola perché sono piazzole enormi e hai comunque tutte le comodità c'è la corrente elettrica l'acqua piazzole come dicevamo enormi c'è possibilità ho visto che ci sono anche delle specie di casette dove poter dormire il bar giriamoci al contrario che almeno abbiamo la luce a favore c'è il noleggio biciclette la lavanderia ovviamente i bagni la sala ricreativa i giochi per i bambini i campi da tennis un laghetto un lagone uno stagno che non è molto lo stagno più dove si può pescare le piazzole sono praticamente disposte a cerchio ogni piazzola è uno spicchio grosso di questo cerchio in centro al cerchio c'è la colonnina elettrica con sei attacchi di corrente ci sono sei spicchi sei spicchi c'è la presa di corrente c'è l'acqua e anche una appunto una fontanella al centro della abbiamo anche le lavatrici disponibili e anche la doccia con acqua calda per i prezzi invece ti consigliamo ti mettiamo il link al nostro articolo che ti rimanderà il link del sito nel campeggio perché possono variare in base alla stagione in base agli anni quindi ti consigliamo di controllare quindi noi ci vediamo al prossimo campeggio ciao